eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty oggi torniamo con un contenuto bonus perché vi devo riportare una notizia importantissima su fortnite accaduta nella notte ma non ci perdiamo in chiacchiere spolliciate subito il video arriviamo a 500 per il prossimo video informativo e passate a visitare il mio profilo di instagram bene l'epic games nella notte ha annunciato che finalmente è stato risolto il glitch del fuori mappa all'interno di fortnite in tantissimi avete segnalato questa cosa praticamente molte persone utilizzavano dei glitch per andare sotto mappa appunto su fortnite e finalmente è stato risolto ecco il tweet dell'epic games è successo finalmente l'exploit della mappa sotterranea è stato risolto e tutte le varie strade che portavano sotto mappa sono state rimosse per i giocatori che sono stati segnalati stiamo esaminando ogni caso e ovviamente dopo aver completato le nostre analisi prenderemo le misure appropriate quindi adesso puoi tornare a giocare su fortnite senza problemi divertiti sotto il sole dice così l'epic games quindi uno dei problemi più importanti degli ultimi giorni successi su fortnite finalmente è stato risolto passiamo invece a parlare di call of duty perché ieri è stato attivato l'avete visto nelle mie storie di instagram un contratto a tempo determinato all'interno dei quartieri generali andate dal maggiore award e c'è un contratto o meglio un ordine giornaliero che si chiama guarda qualcosa nel cinema non si sa ancora fino a quando sarà disponibile quindi correte il prima possibile ad attivarlo praticamente vi basterà recarvi nel teatro dei quartieri generali e vedere anche i due secondi di qualsiasi video disponibile poi tornate dal maggiore award che vi regalerà un supply drop più 500 punti social avete capito bene addirittura 500 punti social così potrete livellare velocemente considerate io l'ho fatto stanotte questo contratto e sono riuscito finalmente arrivare a livello 11 dei livelli social appunto dei quartieri generali quest'ordine giornaliero è disponibile sia su ps4 che xbox one che pc su ps4 potrete vedere ad esempio una streaming del call of duty world league di cui vi parlerò a breve su xbox one ad esempio un trailer di carentan o su pc un video relativo alle divisioni basta che vedete qualsiasi secondo di qualsiasi video presente nel cinema vi ho parlato del call of duty world league che ieri sera si è concluso a new york lins e i vincitori del torneo sono stati i ragazzi del team caliber e l'mvp è stato chi no chiudiamo questo video informativo con una notizia importantissima che è arrivata sempre nella notte il pre download relativo al dlc 1 come sapete il 30 di gennaio arriverà in esclusiva temporale su ps4 il primo dlc di call of duty world war 2 che si chiamerà the resistance al suo interno tre nuove mappe multiplayer la nuova esperienza zombies the darkest shore di cui vi parlerò domani quindi ragazzi preparatevi domani tante nuità sul dlc 1 e non solo è una nuova mappa guerra in tantissime di chieste amanti ma quando sarà possibile scaricarlo si potrà scaricare prima quando si potrà praticamente attivare il download bene direttamente dal playstation store vi posso mostrare questa immagine che ci dice quando sarà possibile scaricare il dlc 1 dal 27 di gennaio potremo attivare o meglio si autoattiverà perché è una funzione interna di ps4 l'auto download del dlc 1 quindi dal 27 di gennaio finalmente si potrà attivare il download del dlc 1 per essere pronti così le 30 di gennaio per giocarlo su ps4 considerate un mese più tardi quindi naturalmente sarà la fine di febbraio la data dell'arrivo di questo contenuto aggiuntivo su xbox one e pc a breve vi farò sapere anche il peso del download qui sotto nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate arriviamo a 500 mi piace per il prossimo video informativo e noi ci vediamo con tanti nuovi video